zia Teresa cosa stiamo preparando? a me adesso c'è un pochino di trippa salutiamo gli amici zia Teresa buongiorno a tutti trippa a trippar sugo degli amici di roma quindi trippa messa a bagno sugo e olio in vendola mettiamo l'aglio e peperoncino e facciamo soffruggere questa è la trippa a sugo a modo tuo a modo mio perché mettiamo l'aglio a me piace poco senza l'aglio ok voi amici come la fate? pomodorini? si qui facciamo soffriggere l'aglio e peperoncino e un po' di basilica la trippa sta a capo sta a sciacquata che va sciacquata d'acqua corrente e che pezzi ci sono? facciamolo vedere ecco qua trippa senti pelli eccola qua a mariscialla a mariscialla a mariscialla che sta qua è salvato miscato a gritto miscato siamo pronti per versare i pomodorini i pomodorini faccio un po' di farlo e faccio un po' di pomodoro e poi faccio una madre si è persa la trippa che è già lavata in attesa si fanno poche pomodorini si vedete siamo pronti siamo pronti per uscire la trippa che è già costa la trippa deve usare la salsa la mettiamo un po' di acqua perché non so che ci vuoi aggiungiamo un po' di acqua quanta trippa abbiamo pigliato? mezzo chile 600 grammi una pomodorina l'aglio mettiamo il sale il sale quanto basta? basta il sale basta proprio cioè basta sale la quantità che ho? uno e due metti dopo prima si si sa d'aggiungere l'uovo ma sicuramente si aggiungerò mettiamo un po' di basilico basilico che dà sapore una fronda e basilico la pianta e basilico? eh e Martino un po' che fai corino un po' che romano rattugiato ah già adesso è così meglio il sapore il sapore la trippa è già è cotta deve solo il sapore con la ratta casa la ratta casa dica fammi avrei fammi avrei ecco qua e ora attendiamo che si cuocia e poi il sapore ci vediamo fra poco allora ok siamo pronti siamo pronti allora che a me ti faccio mangiare siamo pronti stuta la trippa che si è fatta da queste 10 minuti ero fatta perché già ero sabato ecco qua eh è caduto a me ti faccio mangiare la trippa favorita che vuoi consulata trippa al sugo fateci sapere voi come la fate una zede altra ricetta e per favore io la faccio a modo mio ma non avrei l'oro con il muffin che si è fatta la trippa è andata a me ti faccio a me lo so è andata